Grazie Presidente. Volevo sottolineare che la spesa di oggi è assolutamente inutile. Abbiamo spostato un Consiglio regionale per approfondire una discussione che non è avvenuta. In Commissione, abbiamo ascoltato tutti i confederali, Lupi, Lanci, Luncem, tutti li abbiamo ascoltati. Abbiamo fatto una discussione, dopo un'ora e mezzo in Commissione sono arrivati gli emendamenti da parte del dirigente della Giunta e poi abbiamo votato. Cioè, avete votato e quindi non c'è stato tempo né di approfondire, né di verificare le criticità, né di valutare eventuali modifiche che poi sono quelle che sono sulla pelle di tutti i cittadini che rimarranno precari per altri anni. Quindi, secondo me, anche oggi perdiamo tempo. Perché bastava, a questo punto è anche inutile tutto il nostro essere in questo Consiglio, a questo punto. Perché se devono passare dei provvedimenti a scatola chiusa, allora qui non si parla più di democrazia. Ma veniamo al punto. Allora, noi come Movimento 5 Stelle ci opponiamo assolutamente a questa proposta di modifica perché la legge del Rio chiaramente parte con lo spirito di una modernizzazione di quella che è l'amministrazione pubblica degli enti locali. Ma che cosa fa? Riduce il costo legato ai consiglieri degli enti provinciali, solo i consiglieri, tralasciando tutto quello che è i dipendenti, le spese, le società in house, tutti questi stipendi che non sono stati poi conteggiati. Ma di solito un buon legislatore dovrebbe anche valutare in toto l'efficacia di una legge, i costi che ci sono per arrivare ad una modifica. Allora, volevo anche sottolineare che questa riforma del Rio è stata anche attaccata dalla Corte dei Conti, visto che la Regione Toscana si affianca costantemente all'azione della Corte dei Conti, e qui invece verifichiamo che si sono proprio espersi in maniera anche importante. Nella relazione trasmessa al Parlamento sullo stato della finanza locale per il 2015, i giudici contabili non risparmiano le bordate nei confronti di quel provvedimento che appena un anno fa aveva provveduto a riordinare le aree. In sostanza, per la giustizia contabile, le province sarebbero in una situazione di precarietà finanziaria in cui la forbice fra le risorse correnti e il fabbisogno per l'esercizio delle funzioni fondamentali allo stato delle cose tende a una profonda divaricazione difficilmente sostenibile per l'intero comparto. La Corte dei Conti ha poi parlato di aggravamento, ipotizzato soprattutto nella prospettiva dell'esercizio in corso. Stanno avendo progressiva conferma, considerata la fase avanzata della gestione 2015. Secondo i giudici contabili, a diverse cause, da un lato infatti nel riordino stesso mancano delle novità, negli ultimi tempi, sulle ricadute, sulle gestioni finanziarie interessate, generate dall'anticipazione degli effetti finanziari relativi ai tali di spesa disposti dalla legge di stabilità 2015, rispetto all'alleggerimento della spesa corrente che sarebbe dovuto conseguire al trasferimento degli oneri del personale a seguito della riallocazione delle funzioni non fondamentali. Ma andiamo avanti. Allora, questa legge del Rio non abolisce quindi le province. Dice di voler semplificare gli apparati istituzionali, ma non li semplifica. E lo vediamo. Dice di voler ridurre il numero delle poltrone e invece lo aumenta, perché stranamente non sanno molti che questa legge aumenta il numero delle poltrone. Andiamo a leggere, sono dati che potete verificare anche voi stessi. Allora, attualmente nei comuni con popolazione fino a mille abitanti, il Consiglio Comunale è composto oltre che dal sindaco da sei consiglieri. Con la modifica del Rio saranno dieci consiglieri e due assessori. Nei comuni con popolazioni dai mille a tremila abitanti, il Consiglio Comunale è composto dal sindaco, con sei consiglieri e due assessori. Con la riforma del Rio abbiamo dieci consiglieri e due assessori. Quelle da tremila a cinquemila abitanti, il Consiglio Comunale, cioè il sindaco, sette consiglieri e tre assessori. Con del Rio avremo dodici consiglieri e quattro assessori. Per farla breve e arrivare al sodo, allora, sono state cacciate dalla porta 1774 consiglieri provinciali eletti, e non tremila come viene detto, ma rientrano dalla finestra 26.000 nuovi consiglieri e 5.000 nuovi assessori. Poi non ci sono i posti per la polizia provinciale, mi domando, e si domandano anche i cittadini. Allora, io direi che potremmo utilizzare in questo caso, soprattutto anche dalle uscite che avvengono sulla stampa, riprendere l'articolo 661 del codice penale vigente, che punisce il reato di abuso della credulità popolare. Per cui si inganna in modo drammatico la realtà e quello che i cittadini riescono a leggere. Allora, la polizia provinciale, qui ci sono 500.000 euro che vengono dati per la polizia provinciale, che corrispondono a 12 posizioni della polizia provinciale. Allora, vi ricordo che la polizia provinciale si occupava di competenze, quali la tutela del territorio, gli sversamenti, il bracconaggio, le scariche abusive, tutta una serie di, cioè tutto un settore che verrà, cioè non ci sarà più personale che andrà a controllare questi reati. Ma guarda caso ora l'ecoreato è stato iscritto nel diritto penale, quindi a me questo collegamento mi fa venire molti sospetti. Quindi io non dico, ma questo personale, io non dico che la regione deve creare un corpo di polizia che non è possibile, ma inserire un personale adeguato, non lo so, viene in mente l'ARPAT, cioè che tuteli, che vada a fare i controlli. Perché qui assistiamo costantemente a una devastazione del nostro territorio. Quindi non possiamo permetterci di non avere più personale in questo ambito. Ok, poi, prendo fiato, un attimo. Cioè, tutto il personale poi che è precario, quindi mi rivolgo a tutto quello che è il personale dei centri per l'impiego, è tutto il personale non a tempo determinato all'interno delle regioni, che viveva già nel limbo e adesso riava un altro limbo che però non si sa più dove va a parare. Io volevo solo dire che noi ci opponiamo, qui ci sono delle soluzioni presse a pochiste, qui lo Stato centrale ha fatto una riforma che non è condivisibile, vorremmo vedere la regione che magari dice una parolina tanta, una parolina tanta per poter tutelare tutte queste persone, dire un attimino che devo tornare indietro, rivediamola la cosa. No, qui c'è la velocità, devono passare queste cose, bisogna arrivare al 31 ottobre in questo modo, non ci sono certezze, tutto è forse rivedremo, sicuramente prometteremo, è incommiabile lo sforzo di tutti quelli che cercano adesso degli emendamenti, ma è un tappabuchi, qui chiediamo che la regione si faccia un esame di coscienza, perché qui è tutto, vedrò, poi faremo, poi vedremo, ma qui le persone stanno morendo. Tra l'altro è di pochi giorni, e vi voglio leggere questo, che mi ha mandato uno della Polizia Provinciale, mi rivolgo per ultimo ai consiglieri regionali, se non lo avete già fatto chiedete alla regione chi si occuperà delle vigilanze delle materie di caccia, pesca, ambiente e controllo del territorio dopo che la Polizia Provinciale non ci sarà più. Forse l'intenzione è di dare tutto il controllo alle associazioni di volontariato? L'altra cosa che anche voi avrete capito è la sofferenza personale che è stata e viene perpetuata nei confronti di chi lavora nella Polizia Provinciale, tenendoli da due anni in sospeso e poi trovando una frettolosa scorciatoia. E è di questa mattina, tre giorni fa, la notizia del suicidio nel Cosentino di una poliziotta provinciale. Un esame di coscienza è quello che ci vuole, non c'è fretta, perché non tutte le regioni saranno, diciamo, brave come noi. Quindi potremo chiedere insieme anche alle altre regioni una deroga e una rivisitazione di questo disegno di legge. Grazie.